Allora, complimenti Mariano, 16 punti in classifica, vista la classifica poteva sembrare una gara facile ma i primi due sette sono stati combattuti punto a punto. Ma ormai siamo vecchi su queste cose, gare facili non ce ne stanno, la gara può diventare meno complicata se siamo bravi a fare le cose che dobbiamo fare ma altrimenti gare semplici a priori non ce ne sono. Il massimo rispetto per tutti perché tutti possono offrire, offrono delle qualità in campo e la partita va sempre giocata. Dove ti è piaciuta di più questa sera la tua squadra e dove un po' meno? Allora, partendo da ciò che non mi è piaciuto, sicuramente oggi in difesa su alcune pallonetti, giocate loro, insomma non siamo stati attenti. Pur avendo delle indicazioni molto precise non siamo stati attenti, insomma abbiamo perso tanti punti in maniera ingenua. Dove invece abbiamo lavorato tanto e la squadra ha cominciato a rispondere da quel punto di vista perché è stato un po' il cuore del nostro lavoro in palestra da più di una settimana, insomma. Da un periodo a questa parte è stato proprio la gestione in attacco perché la richiesta in determinate situazioni di giocare meglio la palla piuttosto che sprecare, oggi ho cominciato a vedere questo tipo di soluzione. Magari ovviamente qualche errore in più si fa, qualcuno è giusto anche che ci sia, però ho cominciato a vedere quel tipo di gestione che piace a me. Ecco Mariano, prossimo turno contro Marino, stesso discorso, insomma squadra che ha diversi punti meno degli Spike Davis però si deve affrontare con la massima concentrazione. Assolutamente, in più aggiungiamo che in trasferta e in casa tutte danno battaglia al 100%, quindi per far valere il valore in più dobbiamo giocare al massimo, dobbiamo giocare con questo valore in più altrimenti le partite diventano pari. Grazie a tutti.